Buonasera a tutti, parliamo ancora di cambiamenti con il nuovo governo per il reddito di cittadinanza. Ci sono state delle modifiche alla bozza e da gennaio i percettori abili al lavoro dovranno frequentare un corso di formazione di sei mesi. Lo stesso sarà gestito dalle varie regioni che trasmetteranno il tutto ad Ambal. E attenzione, per coloro che non dovessero accettare i corsi ci sarà la sospensione del sussidio. In più sarà gestito dai comuni per lavori socialmente utili, verranno chiamati proprio i percettori abili al lavoro del reddito di cittadinanza. Ed anche qui ci sarà la sospensione del sussidio se non si partecipa. Oltre a questo c'è una novità importante ed è riguardante i lavori stagionali. Per coloro che accettano un contratto di lavoro stagionale fino a 3.000 euro il sussidio resterà uguale e non ci sarà nessun taglio della quota del reddito di cittadinanza.